Oh! Quazzine! Sì! Non lo so! Ma dai che ci divertiamo! Ahahahah! Hai visto che roba? Questo non è divertente! Wasabi no! Io so cricchetto! Viene via un carretto! Ancora un po' è gratis, no? Non si fermi? Ancora? Ancora! Ancora! Via! Oh! Ecco! Questa sì che è una porzione di gelato! Okuyami, monsciagheます! Al fuoco! Chocpone! Chocpone! Ma pensate! Vi dico una cosa! Non mangiate assolutamente il gelato al pistacchio! È andata male! Ma cosa? No! 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 Con Trimpe! No! Lo scopo! Ah ah! Senza offesa, ma voi due siete peggio di mia cugina Betsy il giorno che fu piantata l'altare. Oh! Ma cosa? Ehi, stai bene, amico? Benissimo. Ehi, caro attrezzi, vorremmo trattare le nostre questioni in privato, se non ti dispiace. Oh sì, scusate. Non voglio intracciare i vostri affari. Oh, vi do un consiglio. Quando sentite ridere e vedete la cascata, premete il pulsante verde. Grazie. Regola la temperatura. Capito. Ricordate, è in Celsius, non fare niente. Levati di torno! Va bene. Beh, credevo che mi avreste fornito un travestimento. Voce riconosciuta. Funzione mimetica attivata. Eh, forte! Ehi, trasformami in un camion tedesco. Eseguo richiesta. Guardate, ho le bracche tirolesi. Ora in un camion da paura. Eseguo richiesta. Voglio succhiare la tua benzina. Ora, venditore di taco. Eseguo richiesta. Un drugster. Eseguo richiesta. L'idea sarebbe quella di non dare nell'occhio, cricchetto. Cioè, fingo ad essere un autocarro qualunque. E lasci il resto a noi. L'Alinol sarà morto e sepolto. Saetame Queen non deve vincere l'ultima gara. Saetame Queen deve essere eliminato. No! No! Ehe! Tch-tch-tch-tch-tch. Ah, eh.